Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo storico che narra la storia di uno schiavo medico che, durante un viaggio a Istanbul, viene coinvolto in un'inarrestabile serie di avventure. La storia affronta temi come il conflitto tra dovere e desiderio personale, la lotta per la libertà e l'intreccio di relazioni complesse, il tutto ambientato in un'epoca storica e in un contesto culturale ricco di sfumature. La trama del libro Il medico di Istanbul, della scrittrice Francesca Tellung di Cortelari pubblicato dalla casa editrice Giunti, è la seguente. Mediterraneo orientale, 1558. Sulla galea che lo conduce a Istanbul, lo schiavo Melchiore Guilandino entra nelle grazie del potente ammiraglio Ulu Cali guarendolo dalla tigna, impresa in cui nessun luminare era mai riuscito. Melchiore, infatti, è un brillante medico che i turchi hanno fatto prigioniero mentre era in cerca di erbe curative per la sua preziosa collezione. Giunto nella capitale, in virtù delle sue competenze evita la prigionia e viene condotto alla corte del più grande sovrano dell'epoca, Solimano il Magnifico, che lo destina a una sorte ancora più atroce, provvedere alle virazioni degli eunuchi per l'arem imperiale. Melchiore, ribelle e idealista, non può né vuole piegare la sua arte medica a un compito così terribile, e chiede a Ulu Cali di aiutarlo a fuggire a Padova dalla persona che ama, il collega Gabriele Falloppio. Lo spietato e astuto ammiraglio, però, esige in cambio un prezzo altissimo. Melchiore dovrà giacere in gran segreto con la figlia di Ali, Mariam, e farle concepire un bambino che lei possa poi spacciare per il figlio dell'anziano marito. Il rischio dell'impresa è enorme, Melchiore non vuole tradire Falloppio ma è costretto a mettersi in gioco per riprendere in mano le redini della sua vita. In questo turbinio di eventi si intrecciano le vicende, le passioni e i destini del serraglio. Sullo sfondo di una Istanbul magnifica e crudele, Francesca Tellum di Cortelari da vita ha una storia d'amore e morte che sorprende, appassiona e coinvolge fino all'ultima riga. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.